Soprappate le libertà di entrare i compagni uccisi, ottenete punti con le vostre azioni per far ritornare più in presa. C'è gente che vuole di me? Vi lascio i soldi della sciocca? Lasciamelo, lasciamelo! Va bene, Marco, se lo metti a terra, me lo raccoglieremo e mi faccio la chiamata. Sì, sono piccolette queste. Sì, sì, ho capito che eri proprio tutti veniti. Sopra di me? Stato. Cambiamo testo. Ragazzi, tutte volte l'avete fatta? Vi avevo lasciato i soldi quello sciocca, perché non lo metto? Sopra, sopra qua. Sopra di me. Che cazzo di armato? Lascio. Vai, man, vai, man, vai. Bravi, lascia, lascia a terra, lascia a terra. Eh, lascia a terra. Bravo, bravi. Mi faccio questo, mi faccio questo. Nooo, è qui, è qui. Non avevo le muni. Eccomi. Ragazzi, ma siete pazzi? Ciao, ma stiamo. I bastardi mi sparano a posto. Ora mi faccio la secca a terra, raga. Adesso mi sono scaldata. Voglio giocare almeno quattro di quattro di quattro di quattro. Ok, ci state? Marco, scelta. Eh, ok, sono tanti, eh, sono tre. Un'atterrata. Grazie per le cinquanta. Bravi, ragazzi. Rosario. Non corporation. Non puoi staccare un asquestro più forte. No, ma questa è la talentologia. Gli uomini, ragazzi. Vedi me una mano. Gli uomini, ma sono a tengo, ma sono a terra. Quindi sarai. Io, c'era stata un aspetta. Aiuto, Mark. Quattro di thank you for joining. Sopo rue io, sapendo che abbiamo indire il Duke. All'altro può essere tra lor shock e la Zandia Chidua. Certo, lì. Raggiungiamo questo punto. 29 buddy. Marco, in arrivo nell'area. se ne vanno anche sotto le tende appena scendi è camperato ciao mario bella maria il pò di fun no ragà vado all'oggi si è morto un po di pingas ma perchè siamo tutti i più forti nei morti? eh ragazzi attenti fino all'odio c'è gente eh si ma è un mat ma quindi che sta facendo la c'è uno scopo poi ci andiamo al nostro io vado all'odio e me lo gioco non è un'attività non è un'attività ah non è un'attività non è un'attività non è un'attività io vado sotto vabbè sto dormito dai sto dormito c'è un furtino sopra l'odio raga non si può scendere è matto è matto è matto è matto è un grande la propria non è vero, non l'ho fatto a capire non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. A me non sono un uomo, non è vero. Allora, se non è vero, non è vero. Tu credi che la testa vuole andare da... Parco la nuova zona sicura Una UGM immobile, davvero impredibile Parco di queste delle stazioni di acquisto ritoccate L'errore Raga, gente qua UAB nemico attivo UAB nemico attivo UAB esaurita Un suo alleato è appena rientrato Un altro Un altro Un altro Oh, raga, questo è il match Ne posso messa una Che bella però che sarebbe su questo Ciao, Genio, è un altro Questo è il mio challenge per due chili in per la vita è un mossa finale vuoi tornare è un po' strano gente davanti a me raga è un po' strano se mi aiutate ce li pago avete colpi secco? no 0 è un po' strano è un po' strano alla fine l'ultimo mi ha messito con la macchina dietro le piante oh no fantasma qua di fronte a schermato di fronte a schermato dai però c'era quel team che non voleva morire c'era il pilastro davanti eh per una challenge del genere no infatti io non la farei mai io ho paura di fare una challenge del genere andrea perché una volta abbiamo fatto una challenge e sono state regalate quante sub raga 150 per i capelli no comunque non è vero ah non ho fatto la challenge no no va bene va bene tempo di farla solo che sono dovuta fare molto a tendere ritorno attenzione al gas io poi pensavo andiamo andiamo iniziamo da qui e questa volta va bene manco lo zucchero mi sono messa che sto fico io non almeno va bene che sto fico ma c'è lo possibile l'osigente la gente vai la vabbè non ho fatto 10 lui non è terrato uno da qui qua ok grazie non lo faccio non lo faccio perché mi spara da dietro c'è il compagnolo no no che questo bro a te arredo 2 atterrati 2 atterrati ti scace la roba ma no, è bene uscire lì sto sfigata così Marco tutti il problema è questo se non li confermo non sarà la torresa infatti io me li devo utilizzare a terra io me li faccio una volta che si resta eh, l'ho capito però ora è impossibile per il semplice fatto che tutto il team ha la torresa vabbè dai basta vabbè è ancora finita adegno è un negozio legato ma vabbè 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 ok lascialo domani ecco mi è arrivata una stringa raga sto coperto vabbè lo vedo madonna mia wow c'è occhio ma è sopra di noi no no è di fronte ma è proprio pingo di fronte e corro 625 nell'area operativa allora raga devo uscire da questo limbo di sfiga ok ok vabbè non so io vabbè vabbè ma questo è giancina ma che vi devo dire raga che vi devo dire raga vabbè vuole fare uno contro uno aspettate un attimo dai allora credo in te eh ti prendo e lo colpisci o mi colpisce lui? non c'è raga c'è eh non lo vedo ne sei andati adesso perchè loro sono scurbi andiamo a farlo di mi ingaccio mi sparano non 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 te lo hai capito essai pagiolo oscuro si chiamava quello ragazzi grazie Siviglia grazie grazie ho proprio cioè manco se giocassero a un torneo ma pure i boss ok marzo tutto bene tutti mi sbagliano un gol mamma mia e quella me la tocco io fratelli e dammela e dammi pure questa e pure questa la voglio la voglio ragazzi qua da me c'è John Cena ripetire io salgo ragazzi salgo ragazzi che ragazzi ma chi è crashato qua quindi non ci credo non mi dire queste cose perché è brutto non è vero ti stai umiliando fidati ci siamo? comunque secondo me ti stai umiliando è vero? ok raga sono crescita però non mi metto Francesco online non lo so perché ciao comunque la colpa è di Adrian che mi invita a manette a soccrasciata volete vedere? questo battle pass è pieno di anni oh io ero il primo pass dai Adrian non fai difescioso che sei la prima partita non è vero comunque Roby tu sei casciata e ne abbiamo metto in due non è vero io lo so ho preso un pesciolone che mi sembrava andato beh allora mi incattavo raga come faccio ad avere 21 richiesti di amicizia se il massimo tu 20 fino a posto sono madri che fa vabbè Ma li scrivo, li dico sempre Ok ragazzi, allora abbiamo una challenge Andrea, quindi, fammi questa challenge Però invece di fare queste due mosse finali Non tendrebbe di farmi una mezza challenge Rispetto a quella grande Cioè, che ne so, fai 20 kill Così almeno mi busto Non tendrebbe Ma che corrompa? Ieri è aperto un problema contro un botto Andrea Ragazzi non dà i commenti Sto scrivendo perché forse si è baggato il problema Ma devi sapere Magari devo aggiornare E' arrivato un nemico Attenzione in alto Ciao Cristian, buongiorno Sono Roberta Bella Brian Allora ragazzi, facciamo così Facciamo una challenge Vuole sapere Sono un tuo fan Di chi io sono un tuo fan Andrea, ci sei? Bella Carlos Cento, ma? Due Allora, identificate il mio colore Del personaggio Io sono colore Blu Verde C'è arancioriola Allo start c'è l'autoresso Quindi se ne mettete una terra Magari me lo pingate Lo faccio io Ok Lascia, lascia Un altro flyer Un altro flyer Che è giù, non mi ha dato l'assist In seconda che aveva trovato voi Figuramente Sì Ragazzi facciamo il loadout Occhi in giro Venite, venite Con il sound dello shock Sopra Cazzo Ragazzi, occhi mi lascio Cadetro No, ragazzi, è morto pure io che è un pull team da me spirulina oddio oddio carlos sediamo un po per favore ti prego io sono appena sponata ora non mi conviene venite qua vabbè però questo vede switch dove cazzo l'avete imparato tutti dai 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 ma quanto si i rinforzi sono in arrivo la macchina raga copiarono di gente di pazzi scatenati che non mi vedo nulla di grazie bryan c'è difficile vado qua raga marco quando hai cambiato armi ce ne per venire da destra mano io ho un daemon nei superi di me regla uccide d'assalto marcato sta arrivando un nemico attenzione in alto uapin nemico artigo un reto non è stato fatto dentro bravo i gamberi con ilmbachino io sono in tre Alla nuova zona sicura, gas in arrivo Con tuo alleato appena rientrato Dentro della squadra Ok, fermateli Ok, lo sta andando One shot, one shot da me la gamba Ringato, sopra Bravissimi Sì Andrea, praticamente ti avevo detto Se volevi farmi una challenge veloce Così, perché sul fortuna è un po' complicato Per caricarmi, per gustarmi Io volevo giocare tanto Che andava bene fare una mezza challenge Rispetto alle 32 kill Quindi che ne so, 20 kill Ragazzi, devi piastere col tuo cecchino per caso? Saremo una lira Andiamo, andiamo, venite raga Ma questa l'ho trovata Oh, un po' di me Anzi, c'ho otto 8 kill Sordi, dove fai? Vabbè, vabbè Guarda la cagnola, grotta, grotta Righiamatela bene, per favore E' nico in arrivo nell'area Sono qui No, le vede, le vede Bravissimi Il marcellano qui Marco, una mano, non c'è l'ho pezzo, c'è uno Muoio, muoio Nella casetta sotto Raga, mette casetto, no? Brav, brav Sotto di voi Tranquilli, ce ne avete uno a destra, però Verso lo shocker Ciao, still mode E lei, da me, da me, da me, da me Cazzarola Minchia, qua sotto l'inferno Non scendete perché non c'erano come un coglione Ah, non è proprio qui Ah, ma era un casino C'erano tipo 8 milioni di persone Oh, però, questa lobby era bella Era pieno in italiani E questa cosa mi piace E il fatto che ci sono in italiani, mi piace Perché le reaction sono sempre le migliori Quelle degli italiani e quelle dei francesi, ragazzi Niente da fare Forse quella dei francesi un po' di più Sì, mi fanno proprio sul cazzo i francesi Uè, da me, a qui di più Ciao Fabio, bella Simo, come va? Allora Andrea, scrivi in questa metà challenge Dai, fammela tu Buongiorno Fabio, come va? Che racconti, bello? Robi, dico, è bene che torni alla schermata iniziale Perché Marche sta allontanando la schermata iniziale Sì, sì, sì Come vai via? Va bene Marche, ti aspettiamo allora Va bene? Sì, ci aiuto a carregare la stessa Va bene, va bene A dopo Metto sempre i terzetti, magari come prendo Anche noi stamattina ha fatto proprio la pioggia Il diluvio universale Però ha finito, ha fatto qualche ora Ma Siamo con User Che secondo me è fortissima Ah, mi ha invitato Adri Mi ha invitato Ciao Fabio Buongiorno Buongiorno Fabio 30 euro di cibo Ma comunque se facevo uno contro uno Adri, adesso che so che c'è la minimappa Ti spacco Io gioco tutto il tempo senza Nord Ma ti rendi conto che Bob Oh, eppure ho fatto 15-16 kg Quanto ne ho fatto? Non mi ricordo 12 12 Minchia, come te lo ricordi, eh? Te lo sei segnato? Eh, 32 No, no, perché 24, Andrea? Allora, Andrea No No, mi devi dire perché 24 E non 22 O 21 e mezzo Ciao Adri Buongiorno Adri, Adri Bot Mi devi dire Ah, 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 ah Sì, sì Dai, dai, dai Ma perché ho perso uno contro uno? Che manco Era proprio più fredda del, non so Del Polo Nord Eh, vabbè Stai tu scusa Ma bene, va bene Tempo a tempo Ma io lo accetto Ragazzi ho perso uno contro uno con Adrian Io lo ammetto Lo dico in live Lo ammetto Lo sto mettendo Ho perso uno contro uno Ok Ma perché ragazzi? C'era la minimappa Costante C'era l'UAB costante Nella minimappa Ragazzi, io non l'ho visto In Piero freddissima Perché che dura il video Con la MPC Mamma mia Che mi sono allenata Devo dire Che mi sono allenata Mi sono arrivata tutti da qualche giorno Raga, non mi sto giocco Ma che li ho fatti a questo Raga, ma questo non c'è capito niente Raga, questa perversa mi piace Mi sto caricando raga Questa perversa mi piace Non mi vede più Io non vedo più niente Ammazzarnelli Ah, Andrea Sei un pezzo di merito Allora, facciamo la metà Alla metà Se tu vuoi fare realmente la metà 21 O 20 Perché questo mi sembra Cioè, in realtà non posso dirti Che so come mi sento Perché mi sentirei 18enne Però No, 18enne non hai Facciamo 22 Ovviamente 22 Allora ragazzi Andiamo Ah, io sto facendo la challenge Quindi Se la situazione non è troppo complicata Ma veramente qualcuno in terra Che magari ha l'autoresto Venga Ma che io Ti rinvole Perché Sono bene Sto di quasi politica E solo fare cosa Guarda Solo perché so io Cerchiamo di fare il bambino Di tenere comunque Ma che è Il bambino Possono rischierarsi Finché rimanete in giro Guadagnate punti Per far ritornare Prima Sì 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 però non si conferma ora andiamo via da qua ragazza un po' membro della squadra in dietro arrivo a metterci zellana da sosse a parte cassa armi prendetela potete prendere altri due da me a stare due clip ragazzi prego no no non 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 そうですね non 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 c'è più armi ce n'ho eh no, facciamo l'office che è importante ma pure il load è importante no, ma... ricognizione, grazie ok, andiamo qui ho vinto il volo vai, pucia, 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 conferma, conferma due a terra, due a terra eh, d'accordo eh, d'accordo, d'accordo cosa faccio? auto, la mila ua di desaurita, dietro alla base va bene, vengo attivo vengono della squadra in rientro chi ha confusione della gama mentre giocavamo mi aveva dato una chiamata e ho dovuto prendere la mente c'è un soldato nemico c'è un soldato nemico dove sono tutti, cazzo? abbiamo bisogno di soldi, raga eh, c'è un soldatore, robè anche però grande vediamo quando il gas si chiama hai soldi? tenete, fatelo avvio, raga c'è un soldato nemico c'è un soldato nemico oh oh questo è un soldatore ragazzi, li togli per l'AV e poi eh, sto mostrando qui vieni adri, vieni qua non c'è un soldatore ma non c'è un soldatore non c'è un soldatore ma non c'è un soldatore e non c'è un soldatore UAB alleato in volo ragazzi, qua da me c'è gente dai cazzo, si è bloccato la mia ma affanculo, ho capito risparano addosso dai, non ve l'ha capito aiuto c'è un soldato nemico no grazie molto come un coglione raga, io ho bisogno di di WB, vabbè ve lo sciacallo, la persona devo pusha' io, di fronte a me cazzo di scorte in campo stai lasciando dopo la sciacallo no, è molto potenza vaffanculo la torre vabbè raga, no, vedi con me fai un puttino qua ok, ma devo giocare bene ma se muoio adesso mi incatto proprio per la freccia la virgiana ma che cazzo che cosa vogliamo però uno cazzo a lo down ok ok è lì sotto il mare magari confermate il mio che a terra la buona ragazzi però anche se la vedi non vede confermati si si dove si quadri Oh, uno si traga un primo C'è chi invece c'entra bella? c'è un'altra parte c'è un'altra parte ora è un'altra parte è finita andiamo 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 capito in pista ragazzi stanno bussando oh stanno bussando stanno bussando è permesso di farlo non vieni non vieni non vieni non vieni una kill e mille e due di danno 73 gradi si infatti è troppo ora accendo pure l'aria ho fatto 16 kill ma ne mancavano pochissime se non morivamo ve lo giuro che ce la facevamo infatti ti vuole uno che sta sempre sicuro tipo uno sempre safe allora non sembra caldo però gpu 66 65 che dice andrea mi sto a favore le coccole al mio piccolo arianna buongiorno ciao gian paolo questo è davvero bello tutto pronto la zona di guerra vi aspetta andrea c'è un soldato nemico tanto 3 gradi Non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Non lo so Andiamo qua però Non lo so Che ne vengono in gioco Vedi il diritto Che lo fanno loro E te vuole avanti a arrojarlo Ok 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 Conferma Vendo il controllo Vado avanti Vado avanti Vado avanti Vendilo Ho trovato una mitraglista Raga abbiamo già i soffi per fare un po' di buffo Andate, io ho tutto scando Raga Il controllo Prendete quella granata Prendete quella granata Prendo vendo Prendete la granata Prendete la Nerda Aspetta la marcha, poi c'è una Che muovo ha qui chiamato Cerra, vai Lascio, lascio 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 Lascio, lascio, lascio Lascio, lascio Lascio, lascio Lascio, lascio Lascio, lascio, lascio Lascio, lascio Lascio, lascio Lascio, lascio, lascio Lascio, lascio Lascio, lascio Lascio, lascio Lascio, 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 lascio 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 No, cazzo Raga, lagghiamo Ma io ti brutto Raga, no, porca Ma porca, sei it a fare lì No, basta, basta, basta Basta, ragazzi, basta Questo gioco non sta bene Siamo crashati proprio tutti noi Lì sono ancora in lobby e ho ammazzato uno Tu sei in lobby e ho ammazzato uno E sto ferma No, no, spera, spera, sto ferma C'è il paracadute aperto Con la pistola in mano Usciamo Ok, ma sei bloccato Usciamo, ma che stai dicendo ragazzi Sono bloccato Io, questo gioco Allora io oggi comunque È la giornata della sfida, ve lo giuro Cioè tutto mi va contro Tutto, tutto, tutto Non c'è una cosa che... Inizia a fare kill Boom La colpa comunque è di Adrian Eh, non so, sarebbe Allora, come che si chiama questo? Mmm Ma Mark è rientrato, l'ho renduto già Eh, libero Mark Cazzo sta succedendo Ciao Mark Rieccoci Ciao È zombato tutto Bella, Michele Buongiorno Per la sfida 50 Per la sfida Minimo 500 Ragazzi Che c'è Ma non c'è Ma non c'è nessuno che me le manda 500 con lo sticker Sono sicura che se me le mandate Raga Le faccio le kill Non c'è nessuno che me le manda Non c'è nessuno che me le manda Non c'è nessuno che mi ha detto Non c'è nessuno che mi ha detto Raga, se va male il ballone ce l'andiamo Mazzca nel minuto Quindi scendiamo insieme al controllo Gatti, porca miseria Due a tre Sì Mark, uno è stato l'ho Grazie 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 Davanti io Adonata No, non ha fatto Un altro Game Spero io Mi sono perso pure io Scusate Non ci credo ragazzi È entrato È entrato ragazzi L'unico salvo della chat che conosco Non sto scherzando Salvo, non sto scherzando Ma buongiorno Ma scusatemi Che è la giornata internazionale dei videogiochi Cosa succede? Tipo, che ne so Le stelle stanno in saldo C'è qualche offerta Che a me non è Perché il salami Non sto andando a chilometri di distanza C'è un soldato nemico Ok, raga Allora, mo andiamo qui Nel serio Dai, dai, mo le faccio Ma, mo le faccio Basta Mo le facci Parti col party Ma chi lo completa? Lo so io chi lo completa Grazie 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 Ma non c'è Ma non c'è Ma c'è Sì, non c'è Sì, non c'è Sì, non c'è ma capito questo? dov'è la mia percentuale? fuuuu no! ma non ho davvero che era a terra cazzo sono due a terra f**k you tanta gente attenta, tanta gente nooo, che sfigato si si, fai lo dav fai lo dav ma dai, fai i cagare fai i scordi fai i scordi fai gli scordi ma c'è una data mi sono dispita di scordi in realtà se c'è il numero 8 si, ma mi torno a 300 per fare un altro Wobby raga avete riportato grazie, mi sa vado l'altro vado l'altro vado 300 mi mettono non mancano? 300 mi mettono 300 mi mettono 300 mi mettono anzi 1000 è 300 mi mettono vabbè buono 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 vado solo fa chieda un attimo tiro Wobby io ho messo uno Wobby io ho messo uno Wobby One shot questo E' la tempra incredibile Raga ma te è bene o non prendere tutti l'ordia? Non riesco a pingartelo Vabbè, questo è forte Mi sa che pure amico Non è che se mi incontro tutte persone che fanno tornei Vabbè, c'era proprio l'ora Il giorno è oggi Pensa quest'ora stanno ne andando Ragazzi, lo doubt non è libero Sì, vabbè Sì, vabbè Basta Ragazzi, abbiamo un attimo il giorno Che raggo Avete presente quando uno sclera? Eh, questo è il momento esatto Basta Non l'accetto Altre mille non li accetto Basta, riprenditela Non la voglio più Stai esagerando Stai esagerando, te lo dico Ma te le rimando su Paypal Grazie Andre per le 2000 Per le 2000 Anzi Oh, ma avete visto quanto è sfigata sta giornata? Ma che cazzo? Io non vedo Adrian Francesco lo vedo Hai vinto in Adrian, ragazzi? Sì, adesso lo miso in Adrian Dai, Andre, grazie per le 2000 No, ma quella Che adesso Qua ti dico Ah, sì, è la tipa di Panda Ma va Ma va Ma va Mi sono sfigurata questa This is not my turn C'è un pad, ma va Pad? Però la trovo, però Eh, la schifo This is not my turn Allora, la schifo si chiama dominio No, no, no Magari si può Però si può Però This is not my turn Ciò mancano 50 stelle Alle 3k da una testa macchina Dei colli siete This is not my turn Invece è quello da Guayana, no? This is not my turn Arrivo, raga This is not my turn Mamma Mamma Bene, una partita 5 7 uav Non riesco a fare Preparate l'attrezzatura Manca poco Uuuuuh E dai Arrivo, guys Grazie per le 300, Andre 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 è una bella lobby anche questa roba è arrivato un nemico, attenzione basta allenarsi, affronterete dei veri nemici quindi sinceramente non ho mai capito quando è la zona ampia vanno, no? no, no ragazzi allora devo fare 24 kill che rimangono 2000 stelle perché non so quante ma troppe meditate andiamo crocca che vanno, guarda guardate guardate porremmi un attimino perché se ne eravano sempre te vado a prenderlo a centaviglato così vieni bene diritto mi fa conmiglia uccidete tutti via ora acqua buone alle pane adesso se è del 50 è ancora lontan eh la Klingon non gli ha fatto niente a questo la squadra in rientro ah va bene raga per favore clip no non ti scherzato quello che ho fatto non sento che lo faccio uno sul tetto e c'è l'arrivo arrivo adri eh segnali che si lascia per favore eh ma l'ho fatto già da volta questi qua sì va bene bravo bravissimo ma questo è un po' raga audio che c'è un'altra emozione no sono 4, sono 4, non venite più qui, non venite più qui andiamocene verso qui sembra più debole per favore in pista padre mi sono fatto madre ok un nemico è un nemico l'obiettivo è stato marcado via con l'attacco aereo attacco a trappolo del giro si è stata in seguito l'attacco ha scontato l'emico si è stata in seguito Quanti gli sanno in teccato? Mettono la squadra! Attacco con un colo nemico! Algo in teccan! Tra l'amai a tutti! Ma come è che non lo pinge? Non lo avevo visto Ah se è pingato la latta o la tua E' scato, raga chiamatemi, chiamatemi di se quanti ne sono perchè io pensavo avendo la scuola Non mi date info, è difficile Poi ho 7 kill dai cazzo Mi vado all'occhio Ovviamente non puoi andare a scuola C'è un full team ma? E' 7 ma come? B4, ma questo è una lì per me ragazzi Che ma per se è che ti vessi portare? Eh dai, però... Sì, sì, raga, qua ve l'ho vinto è costissima Ragazzi, giochiamo un po' risico Ok, ancora a me Uè, basco al marco, è proprio buio Il fatto è che faccio degli set incredibili, dopo di che... Perdiamo, mi perdo La colpa è tutta di Andrea Ciao! Ciao! Guardi, eccomi Guardi, eccomi Esco dentro da Relay Attenzione Andrea, dimmi Sì, eccomi Anche poco all'occhiere a vento Preparatevi a dove All'occhiere a vento A me Anche poco all'occhiere a vento A minutes Asiccola Grazie a tutti. 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 Sì. Grazie a tutti. 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 Tenetevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì. Grazie a tutti. 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 ma quando giochiamo di team senza fare con l'assal e gia vinciamo vinci o meglio le 100 francesca le 100 grazie cucciola e marco crash ragazzi se non crash a marco allora è un video non mi fa militare nessuno grazie comunque francesca per le 100 fantastica dove stanno le ragazzi non vedo più nessuno online mi avete bannato marco adri c'è proprio nessuno francesco lo vedo marco si è un video che è un video che ti fa che è un video che mi fa ho troppo capelli, non potete capire come mi piace non mi liado è impossibile, ci pare un po' di questo oh, mi ha trovato Comunque assurdo che è la Womaton no, faccia il danno peggiorno No Andrea non mi farò mai pelata, pure il mio ragazzo mi piacerebbe di spelare Arriba Arriba un peccato! E' un po' di tempo! 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 Ragazzi, spono! Non mi preoccupare! Perciò la roba! E' un po' di tempo! E' un po' di tempo! Un po' di tempo! Fancia! Mamma mia ma che un fai Con una santa C'è ragazza C'è un fai niqué io ho ammazzato due persone con una santa facciamo il notato lo vedi? vedete che so proprio me a chiesa non so cosa come non detto ritiro tutto raga lascia punti occhio a marco se non lascia qua lascialo 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 no bravissimi ragazzi facciamo i load out qui vieni altri non so non so hanno preso il ballone vabbè sti tavoli fa un giorno vi spiegare perchè fuci il tratto fallito tempo scaduto il gas è sempre più vicino lancio di equipaggiamento in arrivo cazzo raga va b si io non gesto una vira si prendo il ballone prendiamo il ballone si ram vabuti vabbiamo vabbè 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 A la cima! Ah, il nemico ti sta a fraganci! Vieni a llevar! Attacco a crapolo nemico, al rivale! ma perchè? perchè sono salita qua? oh no non scorsi non scorsi questa è la porta ragazzi hola Cristian benvenuto raga che hanno non mi senti in giro? apri la carta bravissio raga rispondiamo due secondi qua è pieno eh raga dentro la caccia stai a destra stai a destra stai a destra raga audio uno è sceso qua due scendono qua stai a destra stai a destra stai a destra guarda dietro stai a destra 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 Vai a rubare, va. E non hai ragione. Mi metto l'ecchio da sola. Io l'ho ancora messo. Bravo, lo stronti. Mi ha accorto ora. Vogliamo un gelato con la panna qui. Con la Nutella sopra pure. Ma non è anche una bella tequila bum bum se c'è della carica. Ma che tequila bum bum o qua dove cazzo ce ne andiamo? Io non bevo, veramente. Ciao Vincenzo, che stai per il like? Oh, Francesco Cusimano, Adir, Mark, ma che cazzo fate? Eh, perché queste le rifate. Va bene, va bene, va bene. Ma che vuole? Va bene, va bene. Raga, allora adesso per farsi perdonare dalla Robin in questa partecipazione dobbiamo fare più kill di lei. Robi con la panna, sì. Mamma mia, regà. Giusto. Ma i bitcoin, quanto sei scesi? No, cioè... Tutte le kill che ho confermato, Mark, perché quest'ora aveva 50 kp. No, no, adesso... Ma satti zitto, vai, il kp sempre è quello, eh. Satti zitto, va. Vabbè, tutte le kill... Vai, vai. Oh, il mio kp non è altissimo, comunque. Vambelo vedere. Guarda. Andate in questo tempo per allenarvi, voi si faranno serio. Il kp di oggi è 2.13. Ho soldato, ne vio. Vabbè, avremmo meno kill, però... Iniziamo a capare se la mia città è giù. Sbarino. Allora, lo si perdo. Vincenzo, grazie per la condizione. Ciao, Francesco. Allora, Vincent, io ti consiglio. Per me la arma guerra è fortissima come la Blixen, e anche il RAN, cioè la nuova metralietta. Io, come assalto, io dico il senso di Automaton. Molti usano il Grau, ma a me il movimento. Io ho un RICCAR, però. Non lo so, ma per far cacare. Sto avendo difficoltà però da ammazzare la tinta ballerina. Aspetta cosa, RICCAR non è facile, devo dire la verità, non lo so, ma anche io come faccio. RICCAR, zona, 1.1, Francesco Cusimano, ti spacco il culo. Sicuramente, perco. Faccio freestyle, 619. C'è un understaker che rispona. Non è al pilano. Attenzione, fratello. Raga, andiamo qua, porca la miseria. A Winery, non c'è neanche la scoppa, andiamo a cimitero per facciamo un gol di fuori. Iniziamo da qui. Sì, sì, tempesto, se c'è che non iniziamo. Basta, mo' spacco tutti. Ragazzi, guardate questa place. Non sto scherzando. Ragazzi, non c'è neanche la scoppa, è morto, è giudicidato. Ragazzi, Lely, porca miseria. Guardate, non c'è neanche la scoppa. UAP alleato in volo, datemi la cazzo. Lely, mortati. Oh, roba. Ok. Arriva, Adria, arriva. Allora, sono qua. Brava. Brava. Mi stanno sparando. Non rimodellare. Questa. Bombardamento di precisione alleato. Sparano dalla torre. Ragazzi, mi mancano solo. Sparano dalla torre. Sparano dalla torre. Buon sì. Caro, l'ho perché il depanto è l'check. Marco, è l'attimità che ho compitato. Mammaina, non ce lo ho acc AiShout. Quindi è lì riprende. Capito? Capito? Ragazzi, lo stendi qua, lo guardo. Sparano dalla torre. Sparano dalla torre. Raga, non ho... Mark, se mi dai 100 facciamo log, Mark Bravissimo, ci non sei entrato Sì Eh, lo si dovete fare, ok, bravissimi, bravi, bravi, bravi Sì, iniziamo il nostro viso Ok, arrivo da... E fare di meglio No 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 vado a grotta io sono cimitero, cimitero a bisogno di voi adriati ok bravissimi dai trovati raga uno a terra avrei alleato in volo dategli la caccia e mi coinvolgo sono supersico non ci si tolende, d'accordo? non ci si tolende la caccia non ci si tolende ma mi ha detto che è il resto non ci si tolende l'uomo ti è no Sono un super stile, è una buona, zona sicura, sta arrivando un nemico, attenzione in alto! Adria, un mio quello! C'è l'ho passata qua, gente qua? Eh, chi va! Cerca di coprire le tue tracce, sei la preda di un team nemico! E' un palla, e va bene! Quanti? Che meraviglioso! E' un nemico, spiegati! E' un nemico, però... Da me, da me ragazzi! Vabbè, camperei un attimo Marco, perché sono trenta secondi buoni, no? Per stare ferma! La cassa, la cassa! Ok, disegniamo! Eh, raga... Dove andiamo? Andiamo a Winery, andiamo a Winery! Sì, sentite! Potremmo tentare, ma... Non so quanto fiavo! Un baffi che esce solo un po'? Uno sul costo! Uno sul costo! Un po' al costo! Un po' al costo! Si fightano con questi! Cattivo in vista! Un po' al forro! RINFORZI DISATTIVATI NO! NO! Raga bisogna aiuto, sono fortamente sola Si ma qua la casa siamo 3 persone Ma che cazzo di cecchino di merda ci ha settato questo qua Guardate, veramente sono senza forza Raga vedrete se volete Se volete Ah, mancano 9 kill ma ormai impossibile per me Ok Però dai, ci sta, ci sta 15 kill, vabbè Guarda la mia qualità con il sword Guarda Oltre quello della madre Vabbè lagna Mi spiagano il live Rai da dove mi sparavano? Eh, da altri È uno, lo diede, ma non c'è il compagno ancora su testo Embrato il live marcato la cara è luce la cara è luce guarda le macchine c'è abbaffante già hai visto forse è una carattina la gente non c'è la gente ha fatto la gente ha fatto un sacco la gente ha fatto oh 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 fuck oh ah all'ultimo raga non è l'ultimo oh 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 Sì, perchè a due lo pavamo scattare Ma no, ma ragà, ma questa è stata bellissima La dura Mi ha sette kill le sue notariche, ragà Let's go Prima è trasformata Ok, Andrea, quante ne mancano quindi? 4 e 3, 7 7 kill per vincere la palla Ok Ok, Andrea, va bene Ma sta getto Ma sta getto Bella Francesco Ma come ne va? Sta a posto? Let's go Bella Felice, grazie per il like Arriva, raga, vado a fare Plin Plin parte 2 Perché è giusto così Eh, la pizza Oh, ditemi se cresciate Se cresciate, cazzi uovi No, 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 no Ah, buono, grazie Grazie a tutti. Preparate l'attrezzatura. Grazie a tutti. No, era compassante. Allora ragazzi, è arrivata a 18 kg. Me ne mancano 6. Grazie Andrea. Mi sa quanta. E guardate quella pubblicità che faceva plin plin, pulita dentro e bella fuori. Ma io non lo so dai. Oppure vi ricordate quella pubblicità? Quella pubblicità. Felice, allora, io gioco dal PC e devi scaricare il programma. Programma astro. Ragazzi, se non faccio 24 kill ora, prendo il PC e lo butto. E non sto scherzando, 3.800 euro di PC, 200 fps senza streaming, lo prendo e lo butto. Dimmi te lo butto. Grazie, grazie mille Andrea per le semine tonali. Guarda, guarda, guarda. Ma come fa' essere così veloce? Ragazzi, questo c'ha lo speed di inf... Non glielo dico dov'è. Non è possibile. No, 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 no. Ragazzi, questa è la speed di inf... Ma perché devo la gappiastra di managgio? Mamma come lagga? Mamma come lagga? Anche a me. Cioè. Ragazzi, voglio fare una compilation divertente con i sub. Ringrazio che l'hago. Ringrazio che l'hago. Guarda le minacce, guarda, dai. Ah, le minacce si è passate. No, 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 tu vedi il kebabbo. Ma no, ma è uno. Uno così. Nella natura. E te si, si è un cappione. Da. No, 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 no. Quanto? Allora, lascio. Non si fa mai il pulso. E i bazzi sono in arrivo. Allora, non è anche a me, non è più viola. Tu ha bene, bico, attivo. Il gas è sempre più vicino. Sottotiro. Per farlo da qui, per marciare anche un'altra. No, 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 no. Allora, dai, come una cappione? Questo来go in pista. Ciao, chi è l'opportunità di fare la downsia per chi fa? Vabbè, non vabbè, facciamelo da altri, non lo puociamelo Vabbè, non vabbè, non vabbè, facciamelo da altri, non lo puociamelo Vabbè, ero io, 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 non lo puociamelo Eh, lo shop non c'è, è quello che non c'è Io vado a pusciamelo, raga Perché vado a guida, io non puociamelo Eh, sto andando a lì, quello che dì Non si va dato lo shop, no, lui non lo so L'auto, Diego, il spacciamento, inarego Molto come da qui i non vada Un po' dithat Ui che mi crebbe Innanzi, non c'è un pied's Sì, niente, vieni Sei pronto, raga? Sono morto, sono qua Lo faccio, lo faccio, lo spacco, lo spacco, tutto online L'ha spaccato lui, sono in due, raga Non in uno, in due, in due Dove sono morto io, è nascito un altro, ragazzi Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 ho trovato un punto vabbè vaffanculo eh io sono safe lui a terra ma non mi ha fatto un lontano raga potete venire da noi mi hai fatto un cecchino raga ma dove cazzo è che cecchino vanco sparon dietro sono loro e io in safe Sì, sono in un safe Dammi 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 ragazzi, uno a terra, uno a terra, l'altro nell'altro, tu ringato Ce n'è uno a sinistra pure? Nooo Dai che ve li fate ragazzi Siete uniti Vai Franci, vai da loro Sì, sì, sì Sei andato una volta, vi fanno Bravissimi, bravissimi Mi spavano Mi spavano Bravi raga, bravi bravi Erano in due, ne erano scartetti questi Ma che l'ha fatta? Mi spavano sempre giocare a chiedere di carino Erano abbattino e non aveva perso No, 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 cos'era? Lo bezzo mi ha... Mi spavano in questo covid? Sì, sì, due anni fa Sì, sì, due anni fa Mi spavano in questo qui Beh vi sono andato un paio Azzone in questo video Mi spavano in questo video Azzone in questo video Perciò il fumo via Sbattolo da Ok, ok, il team intero di Sede Sbattolo da E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' D'nei un po' 2 a destra Procesi Andati a prenderlo Arrivano i suoi amici davanti C'è entrato! Non c'è un altro Avete in l'oddima, non è più Mi sei spattato, non c'è un altro Come? Guardi la mappa Quando mi fermi ti sposti Si si ma... Raga da me, da me Mamma mia Mamma mia Mamma mia Non c'è un 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 Mai Sfattolo Ma Sfattolo A Sfattolo perché secondo me io trovo l'obby strana, riavvio il gioco infatti vuoi os? ah si riavvio si si riavvio proprio ma che due coi 27, 1,13, 1,37, 1,29, 1,36 raga ma ci stiamo a prendere conto? il nostro KDD team non è manco uno non so che dire no no non so che no no sono scomporta sono proprio una scioccata ragazzi mi dà il libro che non è la legge di chi spara se il nemico sgara qua non regge Roma è già abbastanza amare non si regge è la mattanza delle bestie con le teste in linea è la fattanza nelle teste sotto effetto rima è una mattita tra le dita per la vita ed ogni riga è sopra un giorno di dolore come liga e non si placa mica nessuno caga i rigazzoli la linea della vita obliqua verso la sua vita è già sentita forse è musica bellissima seguita da una nicchia piccolissima è la mia gente è quella che ci segue perché non vedo proprio nessuno secondo me ragazzi mettono 15 minuti a invitarmi e ce l'abbiamo fatta c'è vivo c'è cresco la musica da massa mi ammazza la mia gente ma ragazzi guardate guardate ma avete visto che il live ve lo l'ha detto che è vero fate me no non so se l'ha sentito il live 1 1 e 13 1 e 27 1 e 37 1 e 36 1 e 29 1 e 33 1 e 32 1 e 22 non ce n'è una al di sotto dell'1 e 20 1 e 13 questa qua l'unica qui abbiamo vinto mi pare si si abbiamo vinto e non se per fare quel che fate basta fare zero senti le rime del film buono per me che ci ha fatto il vero come si fa non adattare ma infatti noi di team ragazzi noi di team di team è 1 e 29 ragazzi ah si si perché 0 e 85 in questa scena 1 e 29 c'è un rime sedative teleporto clandestine sempre col mio stile di 80 c'è un rime 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 sitica hai capito guardatevi ci siete fate bene se non fate rate Zyder cioè questi qua sono tutti no c'è un rime e la non no la era una settima confezione lega e ho due guate ités okay kalian ttv di gianni 340 metà fuori dalle casse dello stereo manda a casa il tuo progete e non manda calca lunda mentre a folle passi fuori per la risulta ah infatti andrei a così di chi ho troppo all'acca e questo è come questa lobby raga basta giocare prepararsi al lancio sulla zona di guerra sparano ora non c'è tanta gente io io perchè ma per sapere no no tu metti eh bingo 45 incredibile 35 21 25 31 23 fisso è meglio che non guardo no no è che è tornata è un'altra della taglia a dove la voi vai? è ancora finita il nemico è super fortale da me? ah io qua ah donna sono morta ma chi è che era risponduta ragazzi assurdo no? no assurdo 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 in serio? si si alle 18 no? o alle 20 un po' funziona ma perchè non tolgo loro ma che cazzosa sono scusate però c'è che senso proprio lo ritogli il giorno dopo che rimette le sei ma sono buoni signora la profondità del cuore ma va fa mocca come dicono il mio paese senza dire il resto activision è meglio che non dico niente che se mi dai no le persone ah raga io scrivo rabbit warzone le domande più richieste sono quando mettono rabbit quando torna rabbit warzone? eh ma raga piace il pilastro vabbè ciao nico anche a me dopo un po' di scotch eh il giusto compromesso il rabbit secondo me si qua invece i rompi sul trementi come avete visto si fatti sparano i giusto di bastone ahah 26 vinci aria allora nico vediamo io devo fare questa challenge quindi me la pubblico se no andrea poi mi bullizza oh nico se vuoi giocate io non sei potuto Vabbè io tanto non c'ho questa ecco Ho pure forse il sangue che dovremmo sfruttare Vorrei farla ora perché non c'è un doppio Non c'è un passaggio che non tra c'è un passaggio Sì, no, non c'è un passaggio che ti ho detto Dio, no, non c'è un passaggio Bello che li clifo manca uno è lì Wow Ragazzi ho un sacco di italiani questi Giochiamo uniti allora Niente Siamo positivi Andiamo winery Va bene Andrea Vedi che le caromaggia sono le lobby abbastanza equilibrate Questi erano ogni tanto si trovano Ma anche uno Ma anche uno e tre cioè Ma raga uniti Si può condividere le carri e voce Vanno per la mano Gli alleati caduti possono rischierarsi Poi che rimane fuori Ma lasciate muri per farvi tornare fuori Uccidete tutti Via Ecco dove c'è Stato Ragazzi, qua da me, qua da me Questa è scesa e ha trovato subito la cassa di polimenti, incredibbio Una squadra, la cassa è andata Ah No Eh, è sempre qualcosa Morti Sì Sì E' andata E' andata via Per forza, perchè è decadelo uno Ma due, dammi Questa, uno ha fissato E' andata No, franzè, lei davanti Vedete che bello è stato attivo Non so quanti anni Mi sto ancazzando Mi sto ancazzando Questo come cammini ha pisto a me Ah, era disteso nel divano Due, va Steso a di Ora Dov'è? Dove? I Poglio! Proprio più connessione a tutti guarda ha due mani e ti dico ok bravo gamberone risparano addosso no ragazzi i lobby non stanno bene oggi o ci spostiamo e dobbiamo andare viaggia bravo giusto ancora qua c'è manco uno shop manco uno la scura gas minarello o tuo alleato è appena rientrano va per buccia la tua simobile è raga la buccia la buccia la la buccia la la buccia la la buccia la Più laggo, prem laggo Andiamo quindi ragazzi che piovono, piovono nemici Anche Grotto, cazzo Stanno grossaggio, altro Grotto Decidiamo, Grotto, vai Grotto, Grotto Grotto, 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 Anello Oh, cazzo E non è un tipo di Grotto Da me, da me, da me Qui E' one shotissimo Un'altra di Grotto Un'altra di Grotto Un'altra di Grotto Ragà, per chi ha visto clip Un'altra di Grotto di fronte a metri raga 4 a sinistra di fronte a sinistra di fronte a metri di fronte di fronte a metri di fronte a metri di fronte di fronte a metri di fronte a metri bella Franci o Nico sai ci sentiamo stasera anche Andrea ok un bacione a metri a metri a metri come Grazie a tutti. 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 Davvero? Grazie a tutti.